Ciao a tutti e benvenuti a una super puntata a Top Fashion per cominciare questa settimana che dà fine ad un weekend fantastico, giusto Cece? Direi stupendo, quasi top! Cominciato benissimo, finito altrettanto bene. Oggi siamo qui a Top Fashion per mostrarvi quali sono le diverse possibilità per passare al top un weekend nelle vicinanze della nostra città. Sì, anche non troppo vicinante, ci siamo spostati abbastanza vicino, dai. Ok, siamo partiti per l'altro continente. Abbiamo gli occhiali perché dobbiamo ancora recuperare il nostro weekend full immersion nel divertimento per cui oggi faremo a meno di mostrarvi i nostri occhi. Perché non serve come spettacolo? Assolutamente no, anche i miei capelli come potete vedere oggi sono scompiliati come il solito. Però direi in netta ripresa. In netta ripresa, pronti per affrontare il prossimo weekend.